L'Europa cade una volta ancora sulle tutele, i rider, i rappresentanti permanenti dei 27 paesi membri riuniti per dare la luce verde finale alla direttiva che riguarda circa 30 milioni di lavoratori della Giga Economy non hanno trovato la maggioranza qualificata necessaria all'approvazione. Era già accaduto nel dicembre scorso quando lo stop arrivato dei 27 aveva costretto le istituzioni comunitarie a un supplemento di negoziato che si era poi concluso positivamente. Ma non è bastato, nella riunione degli ambasciatori dei paesi membri, Francia, Germania, Grecia e Estonia, hanno fatto muro formando la cosiddetta minoranza di blocco. L'approvazione della direttiva si è resa impossibile e, con la fine della legislatura alle porte, il rischio che il provvedimento abbia imboccato un binario morto è altissimo. Obiettivo primario della direttiva è inquadrare i rider come dipendenti e non come autonomi sulla base di alcune condizioni. Insomma, l'Unione Europea voleva evitare che chi è soggetto al controllo e alla direzione delle app e degli algoritmi delle grandi piattaforme come Uber, Deliveroo e Glovo sia considerato un precario. Non solo nel caso in cui un'azienda rifiuti di qualificare un rider come dipendente, il provvedimento disciplina che l'onore della prova aspetti alla società e non al lavoratore. Il testo prevede infine che qualsiasi decisione sull'incenziamento di un rider non possa dipendere dall'intelligenza artificiale, ma vada sottoposta al controllo umano.